Pietro Ubaldi La grande sintesi attraverso Pietro Ubaldi 1886-1972 Vi è una grande differenza tra il soggetto di questa trattazione che riguarda l'infinito e il vostro sguardo intellettivo che non abbraccia che il finito cioè uno o più particolari dettagli successivamente ma non il tutto istantaneamente La vostra ragione non può darvi che un punto di vista dell'universo perché voi siete relativi siete cioè un punto che guarda tutti gli altri punti ma i punti sono infiniti e voi ne fate parte voi guardate e siete guardati L'universo guarda se stesso da punti infiniti Questa visione globale non può averla che l'occhio di Dio ed io debbo ridurla immensamente per portarla alla misura della vostra mente vedere che è proprio questa che pone i limiti alla mia rivelazione Grazie! 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 Grazie!